Ok ragazzi siamo qui da Donna Titina, adesso andiamo a tagliare il nostro fior di latte Ok ragazzi, mentre tagliamo il fior di latte adesso ci spiegano che tipo di pizza andiamo a fare per l'atteria sorrentina Andiamo a fare una pizza rifassata, vuol dire che prima la friggiamo e poi la ripassiamo nel forno Spettacolo! Che gusto? Facciamo un fior di latte sorrentino ovviamente Poi facciamo mortadella Pistacchio Ok Cialda di grana E granella di pistaccia all'uscita Ok già ti adoro, hai preso le cose che adoro di più proprio Dai cominciamo a stendere E adesso andiamo a friggere Che spettacolo ragazzi E la prima cottura è andata Io la mangerei già così praticamente Adesso andiamo a condire con il nostro fior di latte E poi il forno Mamma mia che spettacolo Vai con la mortadella Tutta la burrata Burrata sempre di lettrina sorrentina tra l'altro E poi una pioggia di pistacchi Piovono pistacchi Vai Ultimi dettagli E per ultime Scialde di grana Il cavolavoro è servito Guardate che buona le nostreofilità Ci sono Ci sono Ci sono Kalian Si Ci sono Ha